Aspira polvere ciclonico Dixon, ricaricabile senza fili, batteria a litio, grande potenza di aspirazione. Ultraleggere e maneggevole, Dixon rivoluziona il mondo della pulizia. La potente aspirazione abbinata alla praticità degli accessori lo rende un alleato irrinunciabile. Si smonta completamente per una totale pulizia delle parti. Dimenticate i vecchi aspirapolveri pesanti da trasportare con fili sempre aggrovigliati. Dixon vi semplifica la vita, garantendo la stessa potenza di un aspirapolvere con filo. La spazzola motorizzata con setole rinforzate cattura tutti i residui, anche quelli più piccoli, agendo in maniera decisa su tutti i tipi di pavimento, anche sui tappeti. Elimina lo sporco persistente in modo facile e veloce con un'unica passata. Grazie al design snello e alla testina snodabile, Dixon raggiunge anche i punti più difficili. Pavimenti e non solo. Il kit include spazzola per tende e tessuti, ideale per eliminare polvere e briciole che spesso si annidano sui divani, tende e cuscini. Spazzola reclinabile per spolverare. Dotata di testine morbidissime, eliminerà tutta la polvere dei mobili senza danneggiarne la superficie. Tubo per le fessure. Dotato di beccuccio sottile, elimina sporco e residui dalle zone difficili da pulire, che si sporcano più facilmente. Il capiente a serbatoio tratterrà tutto all'interno. Quanto tempo sprecate nella pulizia della casa con risultati minimi? Con Dixon puoi risparmiare tempo ed energia. Guardate con quanta facilità elimina polvere e sporco dalle superfici. Tutti gli accessori possono essere connessi direttamente al serbatoio o al tubo principale di aspirazione, in base alle esigenze della casa. Vi siete mai chiesti quanta polvere si annida sugli armadi? Dove ci capita di riporre valigie o altri articoli stagionali? Con Dixon non esistono zone irraggiungibili. Anche la pulizia quotidiana arriverà fino in fondo per una casa sempre pulita e più confortevole. Alla fine puoi svuotare il serbatoio direttamente nel cestino, ricaricare la batteria per il prossimo utilizzo e lavare comodamente il filtro EVA. Perché scegliere Dixon? Per una pulizia profonda e senza fili. Per un problema che si anche es alta ricardoForse, la servire ciletica è usata a fare adesso. Per un problema che si and�ggi era così finalement è studiatoIE vic arguments dripora del rumore. Per un problema che fosse fatto che non è possibile che l'amora sa sentirsi lungo in fondo alå